ben ritrovati buon pomeriggio e vista allora buon pranzo anche io quando finisco questo video vado a pranzare bene ultimo video di oggi che voglio dedicare ad un'altra partita che si è giocata ieri parliamo della liga mallorca barcellona i catalani ritorno in campo in ok 4 a 0 mallorca in trasferta con le redi di vidal al secondo minuto brett wet al trentasettesimo jordi alba al settantanovesimo al novanta al novantatresimo lionel messi ovviamente vittoria del barcellona quotata molto favorita poco sopra l'uno e venti per quanto riguarda la classifica vediamo un po allora barcellona che ovviamente una partita in più rispetto al real madrid a 61 punti questa è stata la seconda vittoria di fila la quarta nelle ultime cinque partite in attesa della partita di oggi del real madrid che è secondo a quota 56 punti che nell'ultima gara perse in casa del betis per 2 a 1 quindi dovrà assolutamente cercare di rifarsi per rimanere in corsa al campionato quando mancano più o meno una decina di giornate bene e oggi mi pare che c'è anche la super sfida atletico bilbao atletico di madrid quindi bene per quanto riguarda le statistiche presumo il netto vantaggio del anzi no vedo qui vabbè possesso palla 35 a 65 tiri 13 a 12 tiri in porta 3 a 7 tiri fuori 7 a 3 tiri fermati 3 a 2 attacchi 87 addirittura 146 bene quindi chiudiamo questo nostro breve video ribadendo mallorca 0 barcellona 4 ora si attende la risposta del real madrid credo che giochi in serata di nuovo buon proseguimento di domenica a tutti buon pranzo ci vediamo domani con il commento post paper view wwe backlash 2020 grazie a tutti e alla prossima ciao